E qui Sant'Eurosia si fermò a pregare e sono rimaste le sue impronte nella pietra. Non so come feci arrivare fin quassù, cinque anni fa, un borghese senza acqua e un altro. Stavo avvicinando al santuario, ecco alla fontana che Jose fece scaturire la sua preghiera. E qui Sant'Eurosia si fermò a preghiera. Nel battistero puoi... E qui Sant'Eurosia si fermò a preghiera. E qui Sant'Eurosia si fermò a preghiera. E qui Sant'Eurosia si fermò a preghiera. Sant'Eurosia si fermò a preghiera.